ahahahah 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 ahahahahah ahahahahah facciamo ahahahahah ahahah bravo ti preoccupare ora allargiamo le porte non vi preoccupate perchè mi sa che è più difficile a uno chi segna vince chi segna vince stiamo allargando piano piano ci sono le vince vai ai dia scordato un altro scordato un altro stop Siamo allargati le porte, un po' meno, drogati. Drogati un po' meno, drogati. Poi questo te lo mando all'uomo un tipo. Riccilla. Signori, via! Si arriva al 3, guardiamo se si segna l'animazione. Gol, gol, gol! Il fortiere così non ci arriva. Ma non c'è la traversa, non c'è la traversa. C'è l'incrocio. Che ore sono? Attenzione, attenzione! L'ultimo gioco! Rigore! Vai, 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 vai! Caccio un palillo a mano! Vai, vai! Forte, forte, brava! Alto, alto Dalila, per poco, per poco, Dalila, per poco. Diciamo che alle sette e mezza comincia il buffet. Ti ricordi che alle sette e mezza adesso il buffet si arriva sempre. Siamo arrivati per qua, non importa. Non importa! Buona, buona! È buona ragazzi, si gioca, si gioca! Vai, dai, dai, dai! Brava, brava, vai, vai! Si gioca! Si gioca! Si gioca! Ah, va chi è la corda! Adesso non tirate la corda! Non tirate la corda! Attenzione, attenzione! Non tirate la corda! Oggi siamo giù la corda! Non ricorda niente! Priscila! GOL! 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 E cosa vuoi se vuoi fare? D30? Eh? Priscila mi ha provvito! Vuoi fare che? A prendermi il pallonante! A casa lì! A casa lì! A casa facciamo il pallonante! Vado! Ezzo, vado! Vai, vado! Lì! 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 Tira forte! 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 Sì! Ma loro sono troppo appiccicati! Dov'è da solo l'altro? Di come ne vengono? No! Palla! Palla! Vado! Palla! 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 Po suite! Palla! 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 Bravo! E' gole, gole! Hai segnato una a zero, giusto? E' gole, gole, gole! E' finita! E' gole, e' gole! Vai, vai, vai! Forte! Fuori, 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 fuori! Fuori, fuori! No, 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 no! Sì! Mi piace, scena! Fuori! Fuori! Fuori, fuori, fuori! attenti con le gambe non ci sono le donne occhio occhio ha lasciato la corda no non vi potete stringere ma loro avanzano non può avanzare non può avanzare non è un giro grande giro grazie 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 non si alza la palla non si alza la palla non ti puoi muovere non ti puoi muovere da lì hai tappo lo cazzo a pane, vergognati ha lasciato la corda vai, vai, vai ragazzi aspetta, però i ragazzi no, 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 no no, 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 no no, 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 no andate fuori, andate fuori allargatevi allargatevi perché stanno in favore ? perché stanno in favore ? Sì, c'è un po' di cacciò. Sì, c'è un po' di cacciò. Sì, c'è un po' di cacciò. È un po' di cacciò. Sì, c'è un po' di cacciò. Come rigami, come rigami? Ottimo, gra... E dai me lo sbaglia. Palo e palo. Attenzione, attenzione, attenzione! Attenzione, attenzione! Vai, carola! Vai, carola! Questa è l'ultimo tiro? Ma lei segna, sicuro. Dove segnare, dove finisce? Sì! Aspetta, noi abbiamo un tiro ancora. Abbiamo un tiro, lei. Abbiamo lo straniero. Abbiamo lo straniero. Ecco l'altro, vedete? E allora, i maschi non tirano. I maschi non tirano. E allora, vieni qua con il suo vicino. Vieni qua un attimo che aggiorniamo il punteggio. Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua!